Per la riserva naturale del Borsacchio a Roseto degli Abruzzi sta per iniziare una nuova vita. Dopo anni di polemiche sul ruolo della riserva naturale e sul rapporto con le attività dell'uomo, il Comune ha in mano il piano di assetto naturalistico redatto dal commissario l'architetto De Gregoris. Lo strumento, spiega il sindaco di Roseto di Girolamo, sarà al centro di un forum con i cittadini e tutti i portatori di interesse dalle associazioni ambientaliste agli operatori turistici. Per la riserva del Borsacchio inoltre sono in arrivo 40.000 euro di fondi regionali che serviranno per l'istituzione della riserva, per la creazione di un ufficio, la realizzazione di segnaletica per capire la reale dimensione dell'area verde e la ripulitura della fontana dell'accolle. In più ci saranno 92.000 euro di fondi europei grazie ad un progetto denominato la Porta dei Parchi che vede il Borsacchio unito alla riserva di Penne, a quella di Grotte di Luppe di Sante Maria, di Monte Salviano di Avezzano e Pietra Secca di Carsoli, al fine di creare un sistema reticolare di comunicazione turistica diffusa in cui Roseto rappresenta la porta d'accesso per chi proviene da nord. Un sistema che sarà arricchito anche da una serie di misure comuni. Per Roseto ci sarà la prima dotazione strumentale attraverso una carta guida, un documentario, un corso per acquisire il brevetto ENAC per pilotare droni, la creazione di una mostra itinerante che girerà all'Italia, un progetto di accoglienza turistica per le famiglie e l'acquisto di un drone per le attività scientifiche della riserva. È un piano di assetto naturalistico che appunto contribuisce a qualificare ambientalmente Roseto. L'ho esaminato finora solo sommariamente, lo esamineremo anche con i consiglieri comunali e poi farà tutto il suo iter, il passo più importante sarà adesso l'apertura di un forum di confronto con tutti i portatori di interesse su questo progetto di piano che è altamente ecologico, altamente ecocompatibile naturalmente perché il suo scopo è che può dare a Roseto un altro strumento di grande sviluppo per il suo turismo perché la riserva del Borsacchio, lo abbiamo capito tutti, è uno strumento di sviluppo per la città.